Ciao ragazzi bentornati, bentornati in un nuovo video e bentornati sempre qui su Marco Verdoliva Tutorial Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i miei video e di andare giù in descrizione perché troverete una serie di link utili per seguirmi anche sugli altri social principalmente il mio gruppo Telegram Marco Verdoliva e il nostro canale Telegram delle offerte Voodoo Hardware questo canale dove ogni giorno potete trovare una serie di prodotti Amazon in forte sconti inoltre vi consiglio di visitare il nostro sito dedicato alle configurazioni ovvero Voodoo Builder questo portale dinamico dove con poche informazioni potete utilizzare un generatore per creare le vostre configurazioni oppure per gli utenti più esperti tramite la sezione Advance potete scegliere manualmente le componenti che poi vi vengono proposte in una lista Amazon non capita spesso sul mio canale è passato un po' di tempo da quando abbiamo visto l'ultima recensione dedicata a delle periferiche da gaming ma oggi grazie ad una collaborazione con MSI sono riuscito a testare una serie di prodotti ovvero un kit completo di periferiche che tra poco vediamo nel dettaglio in sintesi si tratta di un kit composto da tastiere a mouse e cuffie che è nello specifico un clutch GM70 un mouse top di gamma con una tastiera rigorosamente meccanica ovvero la Vigor GK80 a chiudere poi il reparto dedicato all'audio vedremo un bellissimo headset ovvero le Immers GH60 io direi subito di partire parlando del mouse ovvero il clutch GM70 fratello maggiore dei modelli GM50 e GM60 questo mouse viene proposto in una confezione molto carina e soprattutto con una serie di supporti laterali che troviamo all'interno della scatola e che hanno diverse dimensioni e possono essere sostituiti ai lati del mouse grazie ad un sistema diciamo magnetico oltre ai supporti laterali inoltre troviamo all'interno della scatola anche una copertura di riserva superiore sempre magnetica perché ovviamente magari a lungo andare per chi di voi diciamo usura la parte superiore del mouse sempre all'interno della scatola troviamo un piccolo dongle USB perché questo mouse in realtà può essere utilizzato sia in modalità wireless quindi senza filo che con un classico cavo USB io ho utilizzato questa periferica con entrambe le modalità devo dire che non ho notato grossissime diciamo differenze di performance tra l'USB e il wireless in ogni caso parliamo di una frequenza di polling rate di circa 1000 Hz in modalità wireless e di circa 3000 Hz invece in modalità USB questo mouse in ogni caso funziona benissimo e l'ho trovato particolarmente reattivo anche nella modalità wireless esteticamente questo mouse diciamo è degno della fama di MSI per quanto riguarda i suoi prodotti da gaming infatti troviamo una serie di curve sia tondeggianti sul retro del mouse che spigolose nella parte anteriore che conferiscono comunque a questa periferica un look davvero aggressivo e accattivante a farla da padrona ovviamente l'illuminazione RGB sulla parte diciamo del palmo troviamo il classico logo MSI retroilluminato RGB e sulla parte anteriore del mouse troviamo queste due strisce LED sempre RGB completamente programmabili grazie al software MSI ovvero Mystic Light il software ci permette di scegliere tra tutta una serie di effetti e soprattutto di poter sincronizzare anche magari il reparto RGB con altre periferiche sempre di MSI sui due lati del mouse troviamo una coppia di tasti sia dal lato destro che dal lato sinistro che sono totalmente programmabili e personalizzabili tramite software ovvero il game center ebbene questi due tasti a destra e a sinistra conferiscono al mouse una perfetta simmetria tanto che questo mouse in effetti può essere utilizzato sia da persone destrorse che da persone sinistrorse quindi magari per chi di voi utilizza la mano sinistra è un'ottima soluzione perché questo mouse vi permette di mantenere completamente tutte le funzioni punto forte di questa periferica sicuramente è il sensore ovvero un PMV 3360 un sensore in grado di arrivare fino a 18.000 dpi e che ovviamente è regolabile tramite l'apposito tasto che si trova subito sotto la rotellina dello scroll ebbene un sensore ovviamente affidabile che mantiene una grandissima precisione anche dopo intense sessioni di gaming io l'ho testato per diverse ore e devo dire che si è comportato veramente bene è ovviamente un sensore di alta qualità altra periferica che ho potuto testare oltre a mouse è la tastiera che nel panorama di tastiere gaming di MSI sicuramente è la top di gamma ed è quella più imponente parliamo di una tastiera che viene proposta in due varianti con due differenti tipi di switch infatti abbiamo questa che ho testato io che ha dei cherry MX red ma c'è anche la versione con dei MX silver la scocca è completamente in alluminio e tutti i materiali e le rifiniture sono ovviamente di alta fabbricazione senza che ne parliamo comunque è una tastiera diciamo di un certo livello all'interno della confezione cosa molto interessante la prima cosa che troviamo è un set di gay caps sostituibili che sono di colore argentato e alcuni invece di colore nero ebbene questi tasti che possono essere tranquillamente sostituiti su quei tasti che maggiormente utilizziamo per il gaming hanno una rifinitura gommata e zigrinata che vi facilita molto il grip durante i vostri giochi preferiti quindi questo sicuramente è una piccola cosa che rende questa tastiera personalizzabile oltre a ovviamente tutta l'illuminazione infatti abbiamo ovviamente dei led dedicati per ogni tasto e ai due bordi inferiori della tastiera abbiamo due linee due strisce led anche in questo caso completamente personalizzabili tramite mystic light e soprattutto sono sincronizzabili con altri periferi come abbiamo visto il mouse in precedenza ebbene queste strisce led all'inizio mi potevano sembrare un po' stonate non lo so lungo le linee di questa tastiera ma poi devo dire che effettivamente sono molto belle molto carine e danno un tocco in più a questa periferica che è sicuramente una delle periferiche migliori che abbia mai provato insieme ad altre tastiere top di gamma comunque di Corsair e della Razer a chiudere questa recensione ovviamente troviamo il reparto audio che a mio avviso durante il gaming è essenziale per immergersi al 100% nei nostri giochi preferiti ebbene MSI propone una serie di headset di alta qualità e io ho avuto modo di testare diciamo queste cuffie le IMERS GH60 un middle range diciamo una periferica media delle varie proposte da MSI che mantengono in ogni caso delle caratteristiche devo dire da top di gamma pur mancando infatti di una componente sempre più essenziale ultimamente ovvero diciamo l'illuminazione RGB che appunto non ritroviamo su questo modello devo dire che sono in ogni caso delle cuffie veramente di buona fattura e dal rapporto qualità prezzo molto molto elevato con un designing over here e un archetto imbottito abbastanza leggero queste cuffie nonostante abbiano delle dimensioni abbastanza generose devo dire che si sono comportate molto bene e sono in fondo abbastanza leggere e soprattutto comode anche durante l'utilizzo per svariate ore io infatti oltre che giocarci ci ho fatto una serie di cose come ad esempio ascoltare musica le ho anche utilizzate per fare delle videochiamate con Skype e non ho mai in effetti sofferto né il peso generale delle cuffie ok con l'archetto sulla parte superiore della testa né la forza un po' diciamo di chiusura ai lati delle orecchie quindi sono delle cuffie che a mio avviso si sono comportate veramente bene devo essere sincero io in passato ho utilizzato ed ho provato molti tipi di headset anche diciamo di fascia più elevata e sono sempre rimasto un po' scontento dal punto di vista del peso e della scomodità perché dovendole tenere ovviamente sulla testa anche per diverso tempo ad un certo punto ok il peso si fa sentire queste iMers invece sinceramente sono state delle cuffie veramente comode in tutti gli utilizzi per cui io le ho testate all'interno della confezione oltre alle cuffie troviamo inoltre anche un paio di auricolari in sostituzione che sono in tessuto mentre quelli diciamo in dotazione sono in pelle in ogni caso entrambi i tipi di auricolari sono come vi dicevo molto comodi molto leggeri e sono molto morbidi da tenere diciamo intorno alle orecchie queste cuffie basano diciamo il loro reparto sonoro su dei driver che sono da 50 mm ovvero dei neodymium che hanno una certificazione iRES audio e hanno ovviamente delle frequenze di range che vanno dai 20 40 Hz fino ad arrivare ai 400 KHz in ogni caso sufficienti per poter apprezzare la maggior parte delle sfumature in tutti quei giochi che oltre a necessitare di una particolare bravura manuale sono importanti anche dal punto di vista dell'audio per ascoltare passi spari e tutte queste cose qua inoltre hanno un ottimo microfono incorporato unidirezionale che ha un sistema scomparsa che sinceramente io ho trovato molto molto comodo l'ho apprezzato particolarmente e anche il microfono diciamo ha delle frequenze e delle impedenze comunque di tutto rispetto la connettività è affidata a un connettore jack da 3,5 mm il che fa di queste cuffie una papabile soluzione non solo per i diciamo videogiocatori di pc ma anche per chi magari è abituato a giocare su console bene ragazzi questo viaggio all'interno di queste periferiche da gaming MSI termina qui io ringrazio ancora l'azienda taiwanese per avermi dato l'opportunità di poter testare questi prodotti e di poterli portare su questo canale fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un commento se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao